Dieci anni di attività, sono quelli che festeggi il sottopasso Longe Bar e Restaurant qui a Bottega di Vallefoglia. Un bellissimo traguardo che ha raggiunto qua il suo titolare Giovanni Mengarelli assieme a tutte le persone che lavorano con lui. Un traguardo che viene raggiunto anche in un periodo molto particolare, quello dell'emergenza Covid. E qui che proprio il locale si è rinnovato durante l'emergenza, riaperto con l'estate, con nuove modalità, con nuovi tavoli, con nuovo distanziamento. Un locale molto ampio dal punto di vista delle dimensioni che appunto oggi festeggia i suoi dieci anni di attività e noi gli facciamo tanti auguri. Siamo partiti tra l'altro dieci anni fa quando si paventava una sorta di fine della crisi, quando invece si era già agli inizi di una grossa crisi ed è stata una scommessa già da allora. Festeggiarla quest'anno è da una parte un pochino demotivante perché avreste avuto voglia di una festa molto più piena di gente, senza dover fare nessuna forma di distanziamento. Però simbolicamente comunque è di nuovo un ritorno al non mollare, a reinventarsi, ricostruirsi e ripartire con delle nuove realtà. Questa è quindi un ulteriore anno della sfida dopo dieci anni. La gente come ha risposto? Tu hai vissuto quindi il pre-lockdown, il lockdown, il post-lockdown e poi di nuovo questo momento che sembra riportarci un po' a quello di marzo. Sì, diciamo che è stato un po' un'altalena di emozioni. Dalle prime negazioni ricordo l'8 di marzo che avevo un locale stracolmo di gente, già dovevo combattere con il distanziamento come tutti noi già da allora. Io avevo il sospetto che questa cosa andasse a finire peggio. Così è stato. La cosa che mi ha colpito molto è stata questa reazione emotiva iniziale al lockdown con una visione di speranza globale che poi non si è palesata in nessuna realtà. Anche perché come al solito la memoria delle persone è molto molto breve e quindi si fa svelto a dimenticare quello che hai passato dopo due mesi di chiusura. L'estate è stato uno sbrago totale destinato ad alcune aree e questa cosa secondo me disorienta molto le persone. Le persone oggi sono molto disorientate e quindi continuano a vivere quest'altalena di emozioni tra lieve speranza e depressione. È un momento un po' difficile ed è in questo ambito che tu devi riplasmare sia l'attività che la socialità del tuo luogo. Fondamentalmente ho visto un grosso passimento delle persone reali mentre nella virtualità le cose sono lievitate perché forse la clausura forzata ha portato le persone ad utilizzare quel media in maniera ancora più intensa rispetto a prima e quindi questa trasmissione di vita dal virtuale al reale c'è stata. Oggi le persone quando le vedi passeggiare per strada sono molto disorientate e fuori dalla quotidianità. Questo mi colpisce molto tutte le volte che vado in giro. Un'ultima battuta non te la posso non chiedere sul nuovo DPCM quindi chiusura alle 24. Il tuo locale so che lavorava molto anche dopo questo orario qua su questo tuo commento in base a questa situazione che probabilmente so già magari qual è il tuo pensiero non è l'orario in sé per sé. No l'orario non è quello che fa la differenza. Innanzitutto io do sempre una fortissima responsabilità all'individuo perché l'assembramento non lo fa né il DPCM né lo fa il gestore di un locale ma lo fanno le persone che si ammassano. Di conseguenza io da persona, da cittadino se mi appropingo a una zona, un'area, un locale dove vedo che c'è un assembramento alto non ci entro. E se come me tutti facessero in questo modo non ci sarebbe bisogno nemmeno dei DPCM perché la gente si diluirebbe da sola nelle varie aree. Di conseguenza penso che la responsabilità più grave ce l'abbiamo come al solito noi. Mentre la chiusura anticipata dei locali è una sorta di panacea per far vedere che stai facendo qualcosa quando in realtà non ha nessun senso perché anzi secondo me comprime l'uscita di più persone in un orario più corto. Di conseguenza se prima uscivano mille persone nell'arco di ore che andavano dalle 8 alle 3 di mattina in questo momento tu quelle mille persone le comprimi dalle 8 a mezzanotte. Sapendo pure che comunque non abbiamo tradizione del lavoro corto il pomeriggio quindi la gente si è tardi dal lavoro, deve sistemarsi, prepararsi, prima delle 9 fa fatica a uscire e a cenare. Di conseguenza questa compressione d'orario crea soltanto più assembramento rispetto a quello che era prima. Se noi fossimo tutti più responsabili sarebbe tutto molto più facile come dicevo e quindi aspetto e aspettiamo di transitare questo periodo d'accio perché tanto di questo si tratta. Speriamo di passarla in maniera tranquilla ma invito soprattutto la gente a non aver paura di uscire, di muoversi e di vivere una socialità ma sempre rigorosamente dietro le regole. Abbiamo capito che il distanziamento e la sanificazione delle mani di conseguenza e non assembramento e seguire tutti i giorni queste piccole norme ci preserva sicuramente dal contagio. Siccome non è una cosa che finisce domani invito tutti a seguire queste forme.